L'Egambiente Sicilia punta i riflettori sull'abusivismo edilizio e realizza un dossier per spiegare provincia per provincia cosa è successo negli anni. Il report è stato chiamato Abbatti l'abuso ed è dedicato alle demolizioni delle costruzioni abusive. Un ampio capitolo è rivolto alla provincia di Agrigento dove, oltre all'abusivismo della valle, vengono riportati i casi di Real Monte, Licata, Lampedusa e Palma di Montechiaro. Il passaggio su Agrigento è rapido, le demolizioni della valle dei Templi negli anni 90 come inizio di un percorso virtuoso, poi interrotto il caso Licata, ma soprattutto lo stop alle ruspe a Palma di Montechiaro dove il sindaco, pur di non abbattere gli abusi, ha preferito farsi indagare dalla magistratura, scrive Legambiente nel report. L'incipit è dato da una relazione del procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, che durante una giornata dedicata agli ecoreati aveva rivelato che attualmente in provincia pendono dentro ai cassetti dei comuni oltre 36.000 istanze di condono. Di queste, dice lo studio, 9.998 sono nel comune di Palma di Montechiaro con una media di 1,2 per famiglia, stessa cosa a Licata dove le case realizzate senza licenza sono 17.000, anche qui 1,2 a famiglia, su un territorio di 180 km quadrati. Di queste, 400 sorgono entro la fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dal mare e la gran parte risale agli anni 80 e 90, quando a fronte di 150 e 200 concessioni edilizie contestualmente si rilevano 100-130 abusi. Le domande di condono sono state 10.500, quasi tutte evase dal comune con esito negativo e quindi relative a case che devono essere demolite senza alcuna via di scampo. Un contesto di illegalità diffusa e tangibile, dice Regambiente, nulla infatti è più tangibile di una casa, eppure gli abbattimenti previsti dalla legge come un obbligo, non certo come una facoltà, per i comuni restano al palo. Il riferimento al comune di Palma di Montechiaro, indicato come uno dei casi limite di una Italia abusiva che resiste alle ruspe, dove un sindaco, pur di non abbattere gli abusi, ha preferito farsi indagare dalla magistratura, con riferimento chiaro a quanto accaduto a Stefano Castellino. L'amministratore è accusato di falso ideologico, abuso di ufficio e rifiuto di atti di ufficio. Secondo i pubblici ministeri, imporre lo stop per le ruspe sarebbe stato un gesto illegittimo in violazione di legge e dettato da esclusive finalità elettorali. Castellino invece rivendica la sua autonomia nel decidere i criteri di demolizione e le priorità nell'utilizzo delle somme in bilancio. I difensori del sindaco Castellino sostengono l'assoluta inesistenza dei capi di imputazione. Tra le altre cose, la gara per le demolizioni di immobili abusivi nel comune di Palma è stata espletata dall'ex provincia nella qualità di stazione unica appaltante ed è stata giudicata alla società Compat SRL di Roma, che presto potrebbe iniziare l'opera di abbattimento dei manufatti non in regola.